ok, mi è stato detto che mancava un piccolo video specifico per gli Interactable ora lo faremo in questo video, diamo un bel scontato che abbiamo fatto la scena iniziale dove vi ho messo Directional Light, Tune Night Camera, Transpoint e Plane in modo tale che facendo refresh rimanga solo gialla e quindi andiamo poi ad inserire un Interactable quindi Interactable esiste in Spatial, quindi facciamo Spatial Interactable quindi eccolo che vediamo, Interactable qua Interactable, vedete, è un qualche cosa che potete mettere ovunque e che ha, ad esempio, questo è un Interactable praticamente vuoto cioè che non è appoggiato a niente, però di solito si appoggiano su qualche oggetto che avete già come vedremo magari fra un attimo quando ho creato un Interactable l'effetto che si ha è quello di avere un range questo che potete allargare o restringere, vedete e soprattutto l'Interactable ha la possibilità di definire gli eventi che si vogliono fare ad esempio qui abbiamo l'Interactable facciamo che praticamente quando si interacta e tra l'altro possiamo dire questa cosa facciamo una cosa molto brutta cioè facciamo togli il terreno quindi togliamo il terreno sotto i piedi praticamente cosa facciamo? mettiamo possiamo indicare sia il termine da scrivere in Interactable sia l'e-coda da usare quindi ad esempio qua c'è per esempio un un crisis alert e poi gli mettiamo sostanzialmente un evento e l'evento che gli mettiamo è un evento del tipo di far sparire il piano quindi il piano lo facciamo sparire e gli facciamo sparire del piano il famoso sempre set active e gli mettiamo che quando si interagisce con questo Interactable si mette a vuoto cioè off o false il piano che quindi sparisce facciamo un text active scene e così vediamo cosa intendiamo ok quindi facciamo la build di questa scena ci compare praticamente il nostro sandbox che è qua e se abbiamo fatto tutto giusto dobbiamo vedere questa cosa qua e muovendosi verso Interactable che se non mi ricordo dove è ecco perché comunque conviene magari qui vedete che c'è abbiamo messo c'è un Interactable che in questo caso corrisponde con questo quindi togli il terreno e hai messo un punto scremativo se noi interagiamo Interactable no questo è il famoso era un famoso cosa che ci siamo quindi facciamo F ok perché era un oggetto un prefab ma comunque abbiamo questo quindi se torniamo perché un metodo torna il piano quindi non possiamo più fare il mestiere quindi dobbiamo per forza fare un refresh cioè un refresh della scena per tornare alla cosa originale quindi in realtà adesso quello che è successo è che nell'Interactable praticamente ecco siamo tornati vedete che ci toglie il terreno quindi Interactable viene attivato o cliccando qua come ho fatto prima o premendo la F quindi facciamo F e scompare il terreno ok quindi l'altra cosa che si può fare con l'Interactable è di qui facciamo il pin così possiamo fare un X di questo sandbox e vediamo che l'Interactable quindi l'abbiamo messo qua conviene vicino all'Interactable mettere qualche cosa che ci permetta di capire è che c'è l'Interactable quindi gli mettiamo una facciamo un un oggetto 3D ok e gli mettiamo ecco facciamo qualcosa di nuovo un cilindro va il cilindro lo mettiamo in prossimità dell'Interactable qua e quindi noi sappiamo che facciamo Alt ecco che praticamente il cilindro è messo praticamente è appoggiato sull'Interactable più o meno ecco giusto per sapere che ci siamo sull'Interactable quindi sull'Interactable abbiamo poi ancora la possibilità di di agire non con l'Interact esplicito che abbiamo visto prima ma con il raggio Enter quindi noi possiamo anche dirgli che vedete che qui c'è anche la possibilità onEnter allora l'onEnter gli mettiamo praticamente che quando entriamo facciamo sparire magari soltanto il cilindro quindi prendiamo il cilindro glielo mettiamo qua facciamo lo stesso trucco che abbiamo usato prima quindi facciamo setActive vuoto quando entriamo e poi gli mettiamo un onExitEvent qua sotto che quando entriamo quando usciamo praticamente dalla zona dell'evento gli possiamo dire sempre il cilindro sempre il gameObject e sempre setActive e possiamo degli true che vuol dire che non facciamo sparire quindi in sintesi quando ci avviciniamo al cilindro dovrebbe sparire il cilindro allora facciamo di nuovo un textActive di nuovo vediamo un po' cosa succede con questo Interactable fatto anche con gli eventi di ingresso e di uscita eccoci qua oh non vediamo il cilindro ok allora il motivo per cui non vediamo il cilindro è perché eravamo già nell'area in cui il cilindro spariva quindi mi sono allontanato un attimo e il cilindro è riapparso quindi vedete che funziona tutto cioè io praticamente mi avvicino e quando mi avvicino vedete c'è il sparisce il cilindro e poi posso togliere il terreno e quando mi allontano invece vedete che riappare il cilindro questo fatto il contrario magari cioè quando mi avvicino appare una cosa può essere molto interessante per fare qualche cosa che appare da nulla quando vi avvicinate a un oggetto ora credo che più di questo sugli interactable sia difficile da dire comunque abbiamo visto parecchie cose quindi questo è tutto per un interactable puro grazie a tutti